Martedì prossimo alle 16 su Rye Sport, l'Italia femminile affronta l'Islanda in amichevole. Ieri è stato un allenamento sempre contro l'Islanda, l'Italia ha vinto 1-0 con gol di Arianna Caruso e noi siamo felici di poter salutare il CT della Nazionale di Calcio Femminile, Milena Bertolini e con lei la capitana Sara Gama. Buonasera! Buonasera! Eccole! Buonasera! Ciao! Buonasera a tutti! Grazie infinite! Come state intanto? Tutto bene? Tutto bene, tutto bene. Il ritiro sta andando bene, forse le ragazze sono un po' stanche. E lo so, adesso vi facciamo andare a dormire. Vi fanno lavorare molto Sara? E dai, il giusto, il giusto perché se no bisogna per crescere, quindi dai, diciamo che facciamo il nostro. Luciana voleva chiedervi che... Luciana? Oi! Volevi chiedere che prospettive vedono per il futuro. La domanda è una bellissima domanda. Ma quando vi pagheranno? Cioè quando arriverà lo studio? No, che prospettive vedete! È una prospettiva per il futuro, non ti sembra abbastanza una prospettiva per il futuro? Sì, ma per la Nazionale, qual è la prospettiva? Prospettive per la Nazionale. Sara, abbi pazienza. E anche Milena, soprattutto. Devo fare, per favore. Chi risponde? Vado io. Le prospettive sono... intanto cominciamo dalla partita di martedì, che insomma è una partita che ci serve perché abbiamo messo in saccoccia la qualificazione Euro 2022, quindi andremo in Inghilterra il prossimo anno a fare l'Europeo che è slittato di un anno ovviamente per la pandemia. Abbiamo conquistato la qualificazione e adesso quindi ci prepariamo. E quindi quello è la prima cosa, competere, competere a grandi livelli e quindi l'Europeo sarà assolutamente una straordinaria competizione. C'è veramente il meglio del calcio mondiale, quindi sarà anche più complicato del mondiale e quindi adesso lavoriamo per quella cosa lì. Poi appunto, Milena, la qualificazione è stata ottima per gli europei, quindi insomma direi che le prospettive sono buone. Sì, le prospettive sono buone. Le ragazze sono state veramente brave perché eravamo in un girone non facile con una squadra molto forte e le abbiamo affrontate in un momento di difficoltà con il Covid, con la pandemia, con i contagi, però loro sono state veramente brave perché hanno preso questo passo importante per l'Europeo del prossimo anno. È importante per il movimento perché poter partecipare a questi eventi aiuta tantissimo il movimento. Ce ne siamo accorti col mondiale quanto sia stato importante e quindi le prospettive insomma sono buone e poi rispondendo alla domanda di Luciana quando ci pagheranno insomma il mondiale, insomma in questo mondiale le ragazze hanno lottato anche per far riconoscere i propri diritti e quindi insomma la Federcalcio è l'unica federazione che ha deliberato il professionismo dal prossimo anno. Quindi in teoria dal 2022-2023 insomma... Brave! Finalmente! D'altronde il CT della Nazionale... Perché mi devi stare dietro così? Non posso mettere anche l'arte? Non lo so perché non lo fanno. D'altronde il CT della Nazionale Milena ha l'emancipazione nel sangue perché ho letto da qualche parte che tua zia credo nel classe 34 ha preso la patente per i camion, una signora nata nel 34, non era esattamente usuale. È grande! È grande! Quindi siccome c'è... mi pare che insomma il calcio è evidentemente un mondo innanzitutto maschile e tu dici che l'obiettivo principale è vincere i pregiudizi innanzitutto, no? Assolutamente sì. Io vengo da una terra, l'Emilia-Romagna, dove l'emancipazione della donna è avvenuta già da diversi anni dove si è lavorato tanto, si è lottato tanto. Vengo anche da una famiglia dove le donne hanno avuto sempre dei ruoli non prettamente femminili ma maschili. Mia zia guidava il camion negli anni 60, le mie zie conducevano aziende agricole, insomma. Quindi vengo da una famiglia così e diciamo che il mio allenare è una grande passione ma è anche una missione per, come poi per tutte le ragazze, quella di dare opportunità a tutte le bambine di poter giocare a calcio, di poterlo fare nel migliore dei modi e senza, per poter rompere questi pregiudizi che ancora ci sono, ci sono, verso il calcio delle ragazze ma però insomma che stanno cambiando. E poi sono diversi, cioè il modo di giocare delle donne sarà diverso dal modo di giocare dei maschi non si può sempre paragonare, sono due mondi diversi. La parola pregiudizia, qualunque aspetto della vita lo si applichi, è una parola sbagliata a prescindere da qualunque altro sostantivo. No, Sara, volevo farti vedere una bruttissima fotografia che abbiamo qui ritrovato, orribile e preparati un'immagine molto forte, prego mostriamola a Christian, il nostro regista. Non c'era ancora il Covid, è qua. Ecco, ecco, questa sei tu con Luciana, ti ha placato per strada e tu le hai regalato questa maglia da bambina, ecco, 0-12 giustamente. Ma che è vero? Eh? Come non è vero? No, è la sua maglia. Perché è sua? Ma sì, certo. Perché Luciana, è una domanda tecnica che volevo farti Sara, Luciana ha il 31 di piedi, lei potrebbe giocare da qualche parte col 31? E ha subbutto. E ha subbutto. Senti, no, mi ha fatto conoscere Sara. È poco, dai. Evelina Cristellen, che insomma è anche una che si batte moltissimo. Aspetta che Sara stava rispondendoti. Sì. No, la dobbiamo salutare, Evelina, che tra l'altro adesso sono le elezioni al 45esimo congresso FIFA e quindi insomma tiffiamo per lei anche, quindi Evelina, ciao. Senti, è sul numero di piedi di Luciana? No, Lucianina pure può giocare, anzi il piede piccolo si diceva che fosse meglio, no? Ah sì. Che cosa, Sara, non mi reggo in piedi. Sara, oggi ci sono bambine invece che giocano con la bambola Sara Gama. È una cosa che ti fa specie, ti colpisce, insomma. Quando l'hai saputo, guarda qua, guarda che meraviglia. Ma dai, ma una Barbie. Sara, che cosa significa? No, se noi stavamo parlando prima con Milena di necessità di popolarità del calcio femminile, beh, questo è un grande segno di popolarità. È così, beh, è stato molto particolare perché era il primo anno in cui giocavo alla Juventus, quindi era il primo anno in cui entravamo in una realtà italiana importantissima, io e le mie compagne, quindi è stato un anno di tante scoperte. Io ho giocato all'estero, al Paris Saint Germain, l'avevo vissuto fuori perché lì ero professionista e è chiaro che poi arrivare qui a casa mia è quello che ha significato vivere il calcio femminile all'interno di un grosso club italiano, è stato qualcosa di importante, anche dal punto di vista delle opportunità che arrivavano. Quindi quando mi hanno proposto di diventare una Barbie, faceva un po' sorridere, no? Perché magari da piccola preferivo tirare calcio al pallone, no? Che magari giocare con le Barbie, appunto. Però il messaggio che ci stava dietro è che la Barbie stessa poi, l'ho trovato un po' un cerchio che si chiude, no? Perché la Barbie oggi, in questa linea delle She-Rows, 17 personalità femminili, Sì, però non parliamone troppo perché è un problema. Ha battuto qualche barriera in determinati settori, è qualcosa di rilevante perché dice a tutte le bambine che possono sognare di diventare quello che vogliono. Comunque, insomma, la popolarità è arrivata. Cosa serve ancora, Milena, per salutarci allo sviluppo del calcio femminile? Che cosa occorrerebbe? Beh, occorrerebbe che aumentassero i numeri delle bambine. Adesso siamo circa 30.000 praticanti, l'obiettivo è di arrivare almeno 100.000 per allinearsi agli altri paesi. E secondo me un passo importante sarebbe quello di far giocare i bambini e i bambini il più possibile assieme perché bambini, io lo dico sempre, che crescono facendo sport con le bambine, con le ragazze, poi saranno uomini diversi nella società, adulti con una consapevolezza verso le donne diverse che secondo me potrebbe essere un grande beneficio per la nostra società civile. Considerando, insomma, tutta la violenza che c'è nei confronti delle donne, lo stiamo vivendo in questo periodo, da quest'anno, insomma, e in questa pandemia ha tirato fuori anche questo problema. E quindi credo che, insomma, tante bambine che giocano assieme ai bambini credo che possa essere un grande aiuto. Grazie, grazie infinite per essere state con noi. Buona serata e buonanotte. Grazie, grazie infinite. Ciao a tutti. Bocca al lupo. Grazie a voi. Grazie Luciana, noi ci vediamo domenica prossima.